Ok, ed eccoci nella seconda tappa del nostro tour in Francia. Tommy sta mangiando un paninazzo. Che panino stai mangiando? Ma non importa. Siamo a Versailles. Versailles. E volevo farvi vedere la tamarressa del cancello. Ok. Non so se si capisce dal video, però guardate il cancello. Veramente tamarro. Già. Comunque. Ciao Tommy. Ciao. Cosa abbiamo da dire? Che io me lo aspettavo più monumentale. Sì. È grande, ma è come se fossi detto... Vabbè, costruiamo un quartiere, recintiamolo, questa casa. No, deve essere un palazzo enorme. Questo è un quartiere. Sai una cosa? Mmh. Per entrare c'è tutta quella persona là. Siete che ve lo faccio vedere dall'auto. Mi ammasso. Ok. Vi stavano tutte quelle persone là in coda. Sono tutte per entrare lì. E poi lì entri là. E noi adesso andiamo. Sì, ci faremo quelle tre ore di coda, giusto? Per andare a visitare il castello. Il castello di Versailles. A Tulle... Oh, attenzione, sta parlando. No. Eh, non senti arco. No, ne sicuro. A Tulle-Groire della France. Ok ragazzi, vi salutiamo. Magari vi spremi un video stasera. Sì, forse i giardini vi faranno vedere. Sì, forse facciamo un video più tardi. Ok ragazzi. Ciao. Quindi vi lasciamo col panino di Tommy. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Ciao.